Ciao amici, ciao a tutti, sono qui, giusto una brevissima premessa, pochi secondi, vi ruvo, poi vi lascio al video un brevissimo giro in bici con una bici elettrica che usa il mio babbo, appunto, è lui gli ho prestato la gopro per vedere come veniva per nuove tipologie di video sul canale la velocità che vedrete dovrete semplicemente raddoppiarla, in quanto avendo un motore elettrico settabile tramite il computerino che c'è lì è stato messo la ruota 28 ma il 14 sul motore per dare appunto maggiore spinta quando si effettua la pedalata ai rapporti più alti, detto ciò, quindi tutta la velocità che vedete dovete semplicemente raddoppiarla detto ciò, ci cacciamo, vi lascio al video e fatemi sapere come funziona ciao a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti.